benissimo quindi siamo live sta partendo lo streaming insomma ok perfetto allora chiediamo al pubblico youtube di pazientare qualche minuto ancora in modo tale che così facciamo accomodare le persone nella sala virtuale anche di zoom e quindi iniziamo la nostra serata adesso mi collego anch'io su youtube in modo tale così ho sottomano eventualmente le domande eccoci qua siamo veramente live spegniamo l'audio così non facciamo disastri spento l'audio di youtube quindi su youtube ci siamo perfetto benissimo possiamo aprire le porte anche ai nostri ospiti su zoom eccoci qua quindi benvenuti a tutti buonasera buonasera a tutti buonasera 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 d'enrico ciao max ciao roberto ben trovati ciao oh buonasera buonasera ciao giorgio ben rivisti ben trovato anche qui buonasera stiamo facendo entrare tutti quanti quindi l'audio però pazienza doveva funzionare quello della televisione invece e questi problemi tecnici allora qui abbiamo anche un po di pubblico anche su youtube e quindi benvenuti anche a voi allora due comunicazioni di servizio siccome la registrazione della serata andrà anche su youtube dove rimarrà consultabile se siete nudi spegnete la telecamera altrimenti anziché youtube rischiamo di finire su qualche altro canale passato questo primo momento in modo molto poco democratico vi spegnerò il microfono per lasciare la parola a roberto che condurrà la serata e a eolo che è il nostro ospite d'onore e ci racconterà il suo il suo lavoro ecco giusto due indicazioni allora se non avete mai utilizzato la piattaforma zoom avete la possibilità comunque di fare domande sotto dovreste avere una barra con scritto chat chattare per poter eventualmente inserire le vostre domande che a questo punto poi anche eolo avrà modo di leggere quindi rispondere se invece ci state guardando da youtube anche qua avete l'aria commenti vedo che la state già riempendo quindi quando vedete che io giro la testa così perché sto leggendo le domande su youtube ok e quindi chiaramente massimo ci aiuterà a supportare l'aspetto tecnico della doppia del doppio collegamento vero massimo quindi confidiamo su di te magari per leggere le domande di youtube e quindi rifarcele notare quantomeno perfetto ok allora intanto che abbiamo già un po di persone ovviamente iniziamo a dare il benvenuto ai partecipanti a questa questa serata che è la seconda serata zoom che facciamo con con un ospite serate che nascono diciamo da una costruzione quella di non poter fare un evento un evento live come avremmo voluto però comunque è un'opportunità perché queste serate noi le abbiamo tenute e le terremo ancora nella nostra sede di Bustarsizio che abbiamo fondato una nostra piccola academy a promossa l'academy dove teniamo qualche corso e delle appunto delle serate divulgative che è dedicata alla fotografia e nel momento in cui riapriremo chiaramente invitiamo tutti voi che potete raggiungere che quindi siete comodi sulla location di Bustarsizio a partecipare però comunque diciamo questa la prendiamo anche con un'occasione perché ci ha permesso di implementare un po' di un minimo di infrastruttura per poter divulgare questa diciamo queste serate a disposizione anche di chi magari non è comodo su Bustarsizio vedo gente che ci sta salutando per esempio dalla Sicilia quindi stiamo veramente abbracciando tutta l'Italia due parole magari su Apromastore per chi non conosce Apromastore che magari ha scoperto di questo evento da Eventbrite in quanto l'evento è stato attimo ecco perfetto mi avevi spento là il microfono Massimo un po' a tradimento a tradimento sì infatti allora dicevo abbiamo presentato questa serata tramite Eventbrite perché avevamo la necessità di avere innanzitutto le iscrizioni per riempire la sala Zoom che però abbiamo sottostimato la popolarità di Eulo e quindi abbiamo riempito in 4-4-8 e quindi ecco che siamo andati anche in contemporanea su YouTube quindi potete usufruire della doppia piattaforma anche in futuro quindi potrete vedere sia gli eventi che faremo sia su Zoom che eventualmente su YouTube su YouTube forse siamo in live con qualche secondo di ritardo rispetto a Zoom per cui pazientate un attimo nell'interazione ma se ci vedete un pochettino spendi una parolina per quanto riguarda la nostra struttura Apromastore è un'azienda che ha sede a Ro a Milano la nostra mission, il nostro core business è quello della luce quindi formiamo soluzioni di lighting per fotografia e per video quindi abbiamo poi una serie di accessori praticamente accessoriamo e attrezziamo tutto lo studio fotografico o meglio tutto quello che sta intorno alla fotocamera forché la fotocamera possiamo dire quindi importiamo e distribuiamo luci importiamo e distribuiamo stativi, supporti, modificatori per la luce fondali fotografici ovviamente per chi non ci conosce può avere una visione di quello che abbiamo sul nostro sito che è www.apromastore.eu benissimo direi che i dieci minuti accademici li abbiamo fatti passare Eolo, sei d'accordo? buonasera a tutti direi che a questo punto possiamo iniziare vedo che abbiamo già un buon pubblico anche su YouTube quindi direi che entriamo subito nel vivo della serata allora devo dire questo quando tutte le volte che mi incontro con Eolo fortunatamente non capita soltanto virtualmente su Zoom o su YouTube ma capita anche di persona e capiterà anche a breve mi sembra, vero Eolo? questo weekend abbiamo un workshop con la Like Academy di ritratto per cui ma non è solo tanti anni che collaboriamo insieme quindi si può dire che assolutamente sì però devo dire che tutte le volte riesci in qualche modo a stupirmi a stupirci perché Eolo è un personaggio veramente poliedrico, multiforme, eclettico curioso una persona che veramente ha mille interessi che potete scoprire soltanto seguendolo su Facebook passando magari una serata con lui a cena e quindi è veramente tutte le volte un piacere poter passare un po' di tempo con Eolo perché non ci si annoia mai assolutamente e una delle cose che soprattutto ti conquista di Eolo almeno inizialmente quando non si conosce la prima cosa che uno fa è ok, andiamo a vedere sul sito di questo personaggio chi è e quindi vai a leggerti la biografia e quando vai a leggere la biografia di Eolo se voi andate sul suo sito a leggerlo insomma rimanete un attimo perplessi ma scusate un attimo allora vediamo un pochettino quando è nato Eolo no, perché con le esperienze che ha fatto dovrebbe avere almeno 60 anni forse 65, sono stato corto con i 60 perché leggendo le persone che hai incontrato le persone con cui hai lavorato e quindi hai avuto la fortuna ma a volte non si tratta soltanto di fortuna di lavorare uno dice va bene ma caspita, come sei riuscito a costruire tutta questa esperienza? Eolo non ha 60 anni, ne ha soltanto 42 dico bene? No, no, 42 Ah eh, scusa, scusa non ci hanno aggiunto un attimo sì, lo so che lo so che ci tieni che ti senti sempre niente diciamo la verità Comunque tra le cose più intriganti senz'altro che possiamo leggere nella biografia di Eolo sono le collaborazioni che sono state fatte con personaggi senz'altro illustri e adesso cito soltanto Elio Erwitt e Steve McCurry giusto per citarne due ma l'elenco è veramente notevole oltre che chiaramente un curriculum professionale di lavori interessantissimo così come interessantissimo il curriculum artistico quindi le domande per partire sarebbero veramente tante da dire ma come si fa a diventare assistenti di questi di questi fotografi ma forse magari è bene che ci racconti io qualche cosina magari già lo so come hai iniziato effettivamente questo tuo amore per la fotografia e come hai iniziato a fotografare anche perché Eolo non nasce fotografo l'estrazione è tutt'altra vero? Sì diciamo che non è la parte del progetto iniziale e come tutte le cose a volte capitano per caso non ti nascondo che quando ero giovanotto e si andava sai la gita a scuola con gli amici era risaputo che la macchina fotografica doveva darla tutti e tranne che a me perché tiravo fuori le peggiori foto della gita quindi non era una battuta che si ripeteva in continuazione ma era sostanzialmente una forma di distrazione e di disinteresse non mi aveva mai attirato come disciplina in particolare anche per ignoranza perché non la conoscevo nel percorso familiare non ho mai avuto fotografi sai uno zio fotografo un papà fotografo un amico fotografo non era mai capitato per cui il mio diciamo vivere la fotografia era puramente casuale sull'occasione quindi non era neanche un momento di riflessione però sono sempre stato attratto a tutto ciò che era visuale in particolare a discipline affini che possono sembrare diverse ma in realtà quello che può essere il mondo del cinema dell'illustrazione del fumetto erano tutte cose che mi avevano sempre attirato molto a cui dedicavo un sacco di attenzione quindi probabilmente intanto lateralmente iniziavo a maturare e a formarmi senza neanche rendermene conto perché ero comunque un osservatore molto attento poi è capitato di assistere a un servizio fotografico quando ero un po' più grandicello da parte di un amatore ma di quelli bravi quelli che anche se non hanno avuto una formazione formale comunque ovvero non hanno fatto una scuola di fotografia aveva comunque un buon colpo d'occhio e aver assistito alla sessione fotografica una sessione di ritratto con la certezza che le foto sarebbero state brutte perché quello che vedevo da inesperto esternamente non aveva molto senso mentre quando poi le pellicole sono state sviluppate e vidi le foto rimasi stupito perché il modo in cui aveva documentato raccontato ritratto la persona e quindi io avevo fatto un'esperienza da esterno però avevo osservato tutta la sessione il risultato era qualcosa che aveva lasciato senza parole e quindi decisi di provare da totale inesperto da totale ignorante quindi mi comprai una macchina fotografica comprando anche una macchina sbagliata con le caratteristiche totalmente inadatte a qualsiasi tipo di percorso formativo e quindi il tipico errore di percorso non inizi con una macchina sbagliata con la lente sbagliata con tutta una serie di problematiche che poi piano piano ho risolto cambiando macchina per prima cosa e poi iniziando a testare la mia capacità di realizzare fotografie su quelle che normalmente le persone cavie che incontri all'inizio del tuo percorso che sono i familiari e gli amici mi è piaciuto il gesto di fotografare mi è piaciuta l'esperienza mi faceva stare bene mi faceva stare con gli altri in maniera diversa condividevo il tempo con uno spettro anche di opportunità di connessione totalmente differente quindi c'è una sorta di innamoramento nei confronti della fotografia e poi avendo iniziato abbastanza grandicello ho capito quasi subito il tipo di investimento necessario per poter trasformare quella che era una passione tra le tante in qualcosa di un po' più importante quindi ho iniziato a programmare un minimo la crescita e quindi a fare una serie di sessioni fotografiche con un minimo di progettazione quindi non era soltanto ok passiamo una giornata a fare delle foto ma era cerchiamo di capire come ottenere questo risultato ero molto orientato al risultato quello probabilmente è stato un momento di accelerazione che mi ha permesso un minimo di confrontarmi subito con cose un po' più complicate un po' più complesse l'approccio programmatico deriva anche forse dal tuo approccio mentale che deriva dai tuoi studi sì che probabilmente è questo io sostanzialmente mi sono formato come un informatico e quindi con una mente una predisposizione proprio al minimo alla progettazione all'architettura delle cose e questo mi ha portato a cercare di mantenere un approccio simile anche con la fotografia perché è vero che poi c'è tutta la componente creativa tutta la componente diciamo più legata all'istinto più legata a una progettazione che a volte ha bisogno di tempi diversi rispetto a quello che magari è più facilmente quantificabile però resta il fatto che aver potuto costruirmi un percorso di formazione molto pragmatico sicuramente mi ha aiutato in termini di crescita e di accelerazione poi sai avevo già fatto tanti lavori io ho iniziato a fotografare praticamente quando avevo 28 anni quindi piuttosto grandicello rispetto alla media diciamo dei fotografi che magari normalmente iniziano con un'età un po' più giovane e questa predisposizione mentale alla fatica al lavoro alla dedizione e anche un po' al sacrificio mi ha probabilmente dato la possibilità di superare anche quelli che sono magari momenti difficili di ogni periodo formativo quando non ti senti crescere quando non capisci bene le cose quando ti rendi conto che probabilmente hai sbagliato tutto e quindi magari hai perso del tempo e da quel punto di vista essere un po' più grande mi ha anche permesso di ragionare subito in termini di sostenibilità e quindi di fare in modo che probabilmente quando ragionavo in termini anche di mestiere di fare in modo di riuscire a avere un bagaglio che mi permetteva subito di confrontarmi almeno quanto prima con il mercato perché poi è ovvio che all'inizio facevo due mestieri nel senso facevo il fotografo della domenica nel senso scattavo nel weekend e poi durante la settimana facevo un altro lavoro che mi permetteva di sostenere la fotografia che comunque come mestiere ha una soglia di entrata piuttosto complicata specialmente quando ho iniziato io era comunque molto molto costoso per cui riuscire a costruirsi le esperienze necessarie nello stesso tempo essere diciamo compatibili con quelle che erano le richieste minime di un mercato che comunque necessitava di affittare uno studio di avere a disposizione una serie di collaboratori che comunque andavano pagati per cui gran parte di quello che guadagnavo con il primo lavoro finiva sotto forma di investimento sul secondo e poi c'è stato lo switch quando il secondo mi ha dato la possibilità di vivere di fotografia è capitato ci sono voluti quasi una decina d'anni insomma prima di poter fare questo come mestiere poter finalmente dire faccio il fotografo insomma quindi insomma l'hai affrontato ben cosciente di quelle che erano le difficoltà cioè che cosa voleva dire praticamente guadagnare forse anche di errori nel senso ne ho fatti quantità industriali mia madre mia madre mi ha sempre detto di non vendere la pelle dell'orso dopo di averlo ucciso e non mi ha seguito questo consiglio mi sono sempre buttato nella vita a fare anche cose che non non sapevo fare benissimo cercando poi di vivere lo stress dell'urgenza di qualche cosa che devi imparare a fare di fretta e ovvio non guido un aeroplano per cui Lore non voleva dire mettere a rischio qualche cosa nella peggiore di cose se facevo io la figura del fotografo inadeguato e come sei bene in questo mestiere non è una delle cose migliori è pieno di fotografi molto bravi per cui quando sbagli nel dubbio un cliente chiama qualcun altro quindi mettermi nei guai è sempre stata un po' una brutta abitudine che però poi alla lunga mi ha costretto poi a crescere con l'acceleratore e quindi com'è che hai iniziato a fotografare con qualche nome così importante come è accaduto? guarda è arrivato quando già avevo iniziato a fare il fotografo come professione quindi avevo comunque il mio studio e l'inc la fortuna è stato il fatto che sono stato rappresentato da un'agenzia di fotografi molto importante per un fotografo essere rappresentato vuol dire avere un'entità che si occupa di fotografia che crede nel tuo lavoro e decide di promuoverti all'interno di contesti compatibili con il genere fotografico per cui ti hanno scelto nel mio caso era la fotografia pubblicitaria l'agenzia era sud-est 57 di Milano e cercavano dei fotografi giovani da inserire nell'agenzia loro già rappresentavano per l'Italia erano degli ex lavoravano per contrasto Bibba Giacchetti e Giuseppe Ceroni si separavano da contrasto e aprirono la loro agenzia su Milano inizia a lavorare con loro e loro rappresentavano già questi grandi fotografi in particolare capitò che McCurry fu chiamato per fare una campagna fotografica di moda e come ben sai lui è sostanzialmente un fotografo di documentazione o comunque di travel quindi la sua esperienza di fotografia in studio ora direi che è inesperto è un parolone però comunque come tutti i professionisti quando si è trovato a doversi confrontare con un brand molto importante ha deciso di avere degli assistenti che avessero delle caratteristiche che potevano dargli un supporto più importante all'interno della sessione per cui chiese in agenzia se c'era qualche giovane che era disponibile ovviamente io appena ho saputo che c'era questa opportunità io avevo tutti i suoi libri per me era una sorta di dio in terra perché comunque per quanto possa piacere o non piacere è comunque uno dei fotografi più noti con una storia incredibile e quindi mi offri volontario e normalmente negli anni con Steve gli assistenti durano uno o due lavori e poi o se ne vanno perché è estremamente faticoso e stressante oppure li cambia lui perché sostanzialmente non si trova bene da quel lavoro lì poi sono 15 anni che me lo porto dietro per cui insomma ormai ho iniziato come assistente come portapesi per finire poi a essere oggi un lavoro nelle sue produzioni gestisco tutta la fase di preshooting mi è applicata qualche volta di essere anche seconda lente quindi di scattare all'interno dei suoi lavori insomma ormai è un amico facciamo workshop insieme sono tanti anni che lavoriamo e gli altri fotografi ovvero Elio Terwitt Eugene Richard James Natchway sono arrivati tramite Steve nel senso che quando hanno fatto dei lavori gli hanno chiesto che per caso conosci qualcuno e lui ha detto sì non ti preoccupare ti mando io una persona che ti può aiutare per cui ho avuto la possibilità di aiutare Elio Terwitt per diverso tempo a New York anche su progetti importanti come il calendario Lavazza James Natchway con diversi lavori corporate per lo più lavori di documentazione per il mercato corporate quindi per aziende che volevano la sua firma stilistica su progetti commerciali e Eugene Richard per lo stesso motivo per cui aver avuto l'opportunità diciamo che questi tre fotografi ho lavorato su dei progetti specifici mentre Steve ormai sono tantissimi anni che lo seguiamo per cui con lui c'è un rapporto continuativo professionale nel senso che curiamo anche parte della postproduzione delle fotografie contenuti editoriali la formazione l'archivio per cui insomma è un progetto ormai parte integrante del nostro lo sentiamo quasi tutti i giorni per cui insomma è parte integrante del nostro vivere quotidiano ecco quindi la scelta dell'agenzia alla fine dell'essere rappresentato è stata è stata una scelta vincente ma sai non lo scegli tu quando ho provato ad andare in qualche agenzia o non mi hanno voluto incontrare o c'è stato anche un'agenzia molto importante che sono arrivato fino alla scrivania del pezzo grosso sono entrato nella stanza mi ha visto in faccia e mi ha detto no che puoi andare senza neanche aver visto le foto puoi immaginare quanto ci sono rimasto male perché insomma cavolo ma fattelo venire il dubbio di vedere le foto nel senso magari non avrò il physique du rôle però questo è il fatto che magari anche solo il dubbio di vedere per cui se sono arrivato quella scrivania un motivo probabilmente c'era tutte le persone prima avevano valutato ci deve essere stato qualcosa che non è piaciuto però a me questa cosa mi fece stare particolarmente male perché come puoi immaginare quando vai a far vedere il tuo lavoro in certi contesti sono giorni e giorni di preparazione e ci metti tutta l'anima e tutto quello che è probabilmente stato anni di lavoro che pensi poi vanno a confluire a convergere in un unico momento invece poi capita che non succede e poi un giorno mi hanno chiamato loro mi ha chiamato questa agenzia senza preavviso così a freddo per un motivo oltretutto che è incredibile perché grazie a una serie di piccole casualità e l'essersi fatto trovare pronto al momento giusto io avevo lavorato anni prima per una piccolissima azienda che si occupava di costumi da bagno in Puglia un'azienda familiare sostanzialmente e mi ero interfacciato con una persona che era una conoscente del proprietario del marchio e li avevo trattati come se fossero i clienti più importanti del mondo io ho sempre trattato i miei clienti in questo modo indipendentemente da quanto posso aver lavorato in contesti importanti non amo la parola marchetta non è una parola che odio cioè un lavoro lo fai o non lo fai e questo cliente era un piccolo cliente però l'ho trattato come se fosse il cliente più importante nel mondo quindi sono rimasti contenti della mia prestazione e poi questa ragazza è andata a lavorare in questa agenzia quando un giorno ho sentito i responsabili dell'agenzia dire ci serve qualche giovane fotografo bravo su Roma lei ha fatto il mio nome lei ha fatto il mio nome la responsabile dell'agenzia è andata su internet ha visto le mie foto le sono piaciute e mi hanno telefonato non ti nascondo che quando mi hanno chiamato così a freddo ero piuttosto incredulo poi mi sono fatto mandare una mail l'indirizzo era corretto erano loro veramente da quel momento in poi mi hanno messo in prova per un anno la prima cosa che mi hanno detto è la qualità fotografica è un requisito minimo neanche ti avremmo chiamato se quella non c'era quindi non mettiamo in discussione quella mettiamo in discussione la tua capacità di saper gestire i clienti più importanti per cui mi hanno messo in prova per un anno su clienti molto piccoli che di solito sono molto più rognosi di quelli grossi perché uno pensa spesso che i clienti più grandi sono i clienti più difficili in realtà sono i clienti più piccoli che sono più complicati sono meno formati come hanno le procedure hanno anche una catena di approvazione che è meno forte meno esperta per cui ti ritrovi a doverti confrontare magari con delle incertezze e delle insicurezze che poi si reiterano e portano i lavori verso angoli bui della conversazione invece sui clienti grandi è sempre decisamente più facile hai più responsabilità però è decisamente più facile e quindi ho fatto un anno di cavetta è andato tutto bene dopo un anno mi hanno messo su un cliente molto importante mi hanno fatto fare la campagna mondiale di Pepsi Cola per cui una campagna importantissima che stava andando male oltretutto perché ero nervosissimo quindi era la mia prima campagna importante per fortuna feci come McCary mi portai con me portai un vecchio matrimonialista un fotografo di quelli che ne ha viste di tutti i colori per cui ne sapeva uno più del diavolo come assistente era un mio oltre ad essere un bravissimo fotografo è anche un mio amico un po' più grandicello di me e quando mi ha visto in palla che ho fatto un errore incredibile il giorno prima di andare a fare queste foto mi sono cambiato macchina fotografica perché volevo avere una macchina migliore sembrare più prove una prosumer per cui volevo andare lì e avere una macchina più importante solo che sai questi strumenti li devi sentire in mano il solo fatto che non la sentivo il solo fatto che facevo fatica più la vacanza di esperienza su progetti così grossi ero circondato di persone stavo fotografando un testimone al noto per cui ero in una condizione anche emotiva e lui mi ha detto respira stai tranquillo mi ha sistemato il set ad hoc mi ha su due ore che avevo a disposizione dovevo fare tre foto a un'ora e quaranta non avevo ancora una foto per cui insomma sudavo freddo poi abbiamo grazie a lui grazie anche alla sua capacità di mantenere la calma di farmi focalizzare meglio sono riuscito a portare a casa il lavoro sono quelle situazioni sai che poi se ti va male è difficile che l'agenzia ti dà una seconda quando loro fanno una fatica incredibile a trovare i clienti poi una volta che te lo danno in gestione devi portare a casa il risultato per cui e comunque permettimi dato che hai avuto un modo di raccontarmi anche come lavori hai mantenuto questo aspetto direi fondamentale di divisione dei ruoli all'interno del tuo studio tu deleghi molto di diverse attività quindi responsabilizzi responsabilizzi il tuo team chiaramente per cui sai alla fine è è un po' il limite della disciplina di non poter delegare più di tanto perché poi il cliente cerca te vuole parlare con te sei tu che scatti però resta il fatto che è un lavoro di team per cui magari posso provare sicuramente il marketing la comunicazione poi avendo un'agenzia in parte quella parte lì è anche delegata a loro poi più la parte interna del mio studio che si occupa di progetti speciali la formazione ne facciamo di cose quindi sì ho dovuto trovarmi dei collaboratori che ormai sono tanti anni che lavorano con me che quindi un po' si sono formati un po' hanno formato anche loro me perché poi sai gestire il lavoro degli altri non è una cosa facile devi sempre metterti in discussione però è fondamentale avere avere un buon team specialmente quando poi segui tanti progetti in contemporanea da solo impazzirei assolutamente no è fondamentale molto spesso noi siamo siamo tutti un pochettino centristi per cui per carità la personalità il nostro carattere è determinante è quello che che determina le linee guida però bisogna imparare che determinati lavori vanno fatti gestire vanno comunque controllati e supervisionati ovviamente siamo sempre magari in prima persona a rispondere però bisogna imparare ad affidarsi a dei collaboratori e a soddividere le mansioni più possibile ma guarda io devo essere sincero a questo punto di vista è un team eccezionale i ragazzi lavorano con me anzi devo essere sincero sono spesso loro che poi mi spingono ad andare oltre a fare meglio quindi da questo punto di vista non posso che ringraziarli ed è anche merito loro se riusciamo a tenere in piedi diciamo una realtà che si occupa veramente di così tanti aspetti legati alla fotografia ci ritroviamo spesso a lavorare su 4-5 progetti molto grossi più i clienti più la formazione più tutto quello che può essere dall'amministrazione alla gestione del magazzino alla gestione della strumentazione i rapporti con anche quelle piccole realtà che magari sono meno note ma che sono comunque importanti per uno studio fotografico che non hanno necessariamente a che fare con la fotografia ma banalmente le produzioni il catering i truccatori tutto quello che insomma poi ovvio ti ripeto si fa a volte un po' fatica ma è l'unico modo per crescere se non imparavo a delegare non ce l'avrei fatta sinceramente e senti quindi va bene collaborazioni con nomi illustri di questi nomi illustri che cosa ti stai portando dietro nel tuo quotidiano cioè c'è di chi senti maggiormente l'influenza nei tuoi lavori che cosa che cosa ti rimane attaccato alla fin fine dell'aver fatto l'assistente piuttosto che l'aver collaborato veramente magari in maniera stretta con Steve quindi che cosa ci cosa ci rimane attaccato ma guarda l'impianto stilistico sicuramente no perché quello è molto personale però il metodo sicuramente aver visto fare fotografie a livello industriale quindi che va ben oltre il ok esco con la macchina fotografica e non fare questa cosa faccio questo progetto ma vederlo come qualche cosa di più ampio è un'industria nel senso che è ben lontano dall'idea romantica del fotografo che per verità quando viaggia magari lì è da solo spesso viaggia solo non è che viaggia sempre in 30 persone dipende molto dal progetto però l'impostazione dall'impostazione della sessione dove c'è tanto lavoro fatto prima tanto lavoro di ricerca tanto lavoro di attenzione particolari a una sorta di disciplina quotidiana continua è una delle persone più disciplinate che ho visto in vita mia è ai limiti del cyborg ma nel senso buono questo però per garantire poi un minimo di risultato sia i suoi clienti che comunque investono tanto ma anche tutte le persone che lavorano con lui che costruiscono il loro benessere intorno a quel fotografo è anche un senso di responsabilità nei loro confronti io sento questa responsabilità nei confronti dei miei clienti la sento nei confronti dei miei studenti nei confronti dei miei collaboratori per cui sì sicuramente è la disciplina quello sicuramente disciplina e metodo di lavoro esatto ascolta vediamo subito una domanda c'è Andrea che sta chiedendo te la leggo io sta nelle chat sono due domande ma riassumibili ci chiede che cosa è cambiato praticamente nella fotografia pubblicitaria dal punto di vista delle richieste soprattutto legate all'aspetto video in quanto questo lo vediamo tanti studi fotografici ormai si ritrovano a dover affrontare sia la parte foto che la parte video e Andrea voleva sapere tra l'altro se te ne occupi tu direttamente oppure ti fai affiancare quando ci sono richieste di questo tipo da un team di videomaker guarda noi facciamo un purissimo video sinceramente per fortuna l'attività fotografica è tale da al momento averci portato in saturazione quindi questa urgenza di passare al video non l'abbiamo sentita anche se spesso ci viene il dubbio di fare dei forti investimenti per affrontare questa cosa io personalmente faccio un po' fatica al momento sono talmente pieno di cose nella testa che il solo pensiero di dover affrontare qualcosa che è affine ma è completamente diverso non è che se io domani decido di diventare un videomaker faccio un videomaker io così per gioco ho fatto qualche video ma è un altro è un altro mestiere certo per cui da quel punto di vista quando mi capitano dei progetti che hanno il video come parte collaterale o addirittura come parte principale perché non ti nascondo che a volte viene dato per scontato che lo facciamo tendo a collaborare con i professionisti che fanno questo di mestiere sempre sotto la protettrice del mio studio che garantisce poi per il risultato e per diciamo il rispetto dei contratti e delle tempistiche però da questo punto di vista mi è capitato anche con la fotografia io non sono un fotografo di still life oppure non faccio fotografia naturalistica non è che perché basta che uno sa scattare che automaticamente sa fare qualsiasi cosa per cui quelle volte in cui capita che mi viene richiesto un genere fotografico che non faccio io non dico mai non lavoro però cerco delle collaborazioni con fotografi che sono sicuramente più bravi di me per cui sai quando hai uno studio non sei più soltanto l'autore l'autore parla quando fai i suoi lavori personali o quando viene chiamato per il suo impianto stilistico per cui vogliono proprio te per il modo in cui fotografi quando vengono da te come studio fotografico spesso ti percepiscono a 360 gradi ci sono clienti che hanno le idee chiare su quello che fai e altri che arrivano semplicemente dicendo voi fate foto per cui ho bisogno di fare questo e io mi faccio aiutare da persone che hanno la capacità di fare questo in maniera adeguata è quello che posso fare come piccolo imprenditore come manager di uno studio nel senso mettermi nella condizione di è ovvio che sul mio sito non ci sono immagini o foto che non ho fatto io mentre produciamo annualmente una grossa quantità di immagini che magari passano attraverso anche altri altri professionisti non a caso abbiamo ad esempio formato storm studio che è uno spin off del mio studio che si occupa proprio di questo di CGI 3D compositing e tutto quello che normalmente tendo a non fare io per il semplice fatto che ho non ho tempo oppure semplicemente non sono in grado di farlo e quindi quest'ottica qui abbiamo creato proprio una realtà che opera sul mercato e che in parte faccio io e in parte sono collaboratore esterno allora qua le domande stanno iniziando a fioccare però le terrei un attimo in pause perché vorrei entrare subito invece nel vivo subito mica tanto perché ormai è già mezz'ora che ne parliamo vorrei entrare nel vivo della parte centrale del nostro titolo della serata di oggi cioè il ritratto la cosa che molti ci chiedono molti molti giovani fotografi nel momento in cui magari ci chiedono consigli anche su attrezzature cercare di capire se effettivamente il ritratto può essere considerato a tutti gli effetti un lavoro professionale un lavoro che dà reddito o è un corollario è un aspetto artistico della fotografia è un qualcosa di bello ma da tenere di lato ma non è quello che fa stare i piedi lo studio guarda intanto ti direi che allora guarda intanto mettiamola così io posso rispondere per quella che è la mia esperienza e poi darti un'opinione è ovvio che ogni ritrattista è una storia in sé perché poi di base è come dire posso lavorare come cuoco dipende come cucini per cui insomma stesso discorso per quanto riguarda il ritratto è qualche cosa che può generare sostenibilità sì intanto il ritratto vuol dire tantissime cose nel senso che può voler dire ritratto classico ritratto di famiglia ritratto creativo e sono ambiti completamente differenti alcuni più ricchi alcuni più poveri ci sono paesi come il nord Europa dove il ritratto di famiglia i fotografi generano dei fatturati mostruosi qui in Italia è sostanzialmente un mercato morto che non esiste e diciamo che il nostro è un paese dove le persone non sono abituate a pagare per essere fotografate non lo vedono come qualche cosa che merita un investimento se non in contesti come quello corporate dove sostanzialmente l'immagine personale può essere un valore aggiunto per certe aziende per cui hanno dei soldi per documentare per ritrarre guarda ti condivido lo schermo così ti faccio vedere alcune cose eccoci qua io faccio diversi generi di ritratto alcuni sono espressione personale per cui sono il risultato di un investimento in termini di narrativa personale che sostanzialmente non generano alcun reddito diretto ma possono generarlo in maniera indiretta se tu vieni nella galleria portraits quella che vedi adesso nel mio sito sostanzialmente il 99% di questi ritratti probabilmente non mi hanno portato nessun indotto sono immagini foto che costruisco per il mio piacere di farle per costruire un lavoro più autoriale anche perché voglio dire a meno che non si tratta di questi sono tutti giovani ragazzi o soggetti che sono stati fotografati per il piacere di farlo per costruire diciamo un percorso personale e autoriale quindi sostanzialmente sono io che mi metto nella condizione di realizzare queste foto se vai però nella sessione editorial del sito e quindi passo in qualche cosa di completamente differente ecco che ci troviamo con dei ritratti alcuni simili sotto forma di impianto stilistico altri completamente differenti perché come sai quando poi devi mediare con il mercato mediare con un cliente non sempre hanno bisogno di quello che è la tua naturale espressione ma magari cercano di avere delle immagini con dettagli completamente differenti ecco queste invece sono immagini che sono per me un motivo di indotto quindi la tipologia di ritratto che mi porta fatturato benessere e lavoro è ovvio che si tratta di clienti importanti quindi abbiamo dalla casa della Sony Music che mi chiede di ritrarre Giorgia per un'uscita discografica a Pirelli che mi fa scattare Elio le storie tese per un progetto corporate di tutti i personaggi le celebre di scambiamole così che ti fanno Inter per cui siamo andati in giro a fotografare tutta una serie di sportivi queste melandri il motociclista Max Pezzali degli 883 vediano tutti la maglietta dell'Inter sotto quindi si tratta di ritratto ma in un'ottica decisamente commerciale te ne faccio delle altre che ne so il che mi fa ritrarre un'ulteriore tipologia di ritratto con una forte connotazione commerciale oppure BMW che mi chiede di fare dei ritratti dell'amministratore delegato le faccio vedere un paio giusto per farti un'idea questo non è l'amministratore delegato di BMW chiaramente con un altro e quindi ti ritrovi a fare un lavoro di ritrattistica perché ritrattistica a tutti gli effetti ma con una connotazione diciamo commerciale un po' più importante per cui dipende un po' come lo declini in quest'ottica qui è sicuramente un taglio più moda puoi avere un taglio più editoriale questa è Sport Week che mi fa fare una copertina con Giorgio Lorenzo e per loro ho lavorato per tanti anni per cui quello è ovviamente lavoro pagato non ti nascondo che le riviste negli anni hanno iniziato ad avere budget sempre più ristretti e oggi gran parte dei lavori li fai con un forte investimento iniziale da parte del fotografo che non sempre poi viene corrisposto con un adeguato compenso spesso ti dicono vai fai le foto e poi vediamo se ci piacciono te le compriamo per cui c'è anche poi un investimento personale non indifferente è ovvio che stare sul mercato da un po' conoscere le riviste quello che si aspettano tipo di narrativa di estetica per questo mi vedi tanto diverso in queste fotografie proprio perché mi adatto a quelle che possono essere le richieste dei clienti e quindi questo mi porta ad avere da una parte un impianto seristico magari meno evidente rispetto a quello che ritratto che faccio comunemente come autore però dall'altro punto di vista una maggiore flessibilità perché mi permette di costruire dei contenuti che vanno incontro a quelle che sono necessità ti faccio un esempio questo è per Panorama First sono due architetti che hanno disegnato questo palazzetto del ghiaccio non erano presenti tutti e due il giorno dello scatto per cui era necessario scattarli in due giornate separate quindi siamo andati nel palazzetto abbiamo scattato il primo abbiamo lasciato il treppiedi tutta la notte il giorno dopo abbiamo scattato il secondo e poi abbiamo fatto compositing per cui è ritratto ma c'è anche una connotazione tecnologica che mi ha permesso di poter realizzare una foto altrimenti non realizzabile visto che non potevano stare nello stesso giorno nello stesso luogo e ogni volta è una storia a sé per cui poter dare io sono sempre molto attento quando devo dare delle indicazioni ai giovani fotografi perché intanto è veramente ogni volta una storia a sé è un'industria che difficilmente permette di creare che esistono la fotografia è fortemente legata all'attitudine del fotografo al mercato in cui opera al tempo in cui opera cambia in continuazione mi ricordo quando inizia le riviste con un editoriale campavi tre mesi oggi devi farne tre per campare un mese per cui chi lavora soltanto per le riviste immagina le difficoltà e poi non nascondiamo il fatto che inizia a essere un abbastanza un mercato abbastanza sovraffollato ci sono tantissimi professionisti molto bravi sai il problema di quando sono tanti non è tanto la quantità è la quantità di gente brava ed è pieno di fondi molto abili che concorrono alle stesse pagine di rivista per cui da quel punto di vista io ad esempio per quanto riguarda l'editoria è un po' di anni che spingo meno proprio perché il rapporto tra la quantità di tempo e di energie rispetto al riscontro è decisamente inferiore rispetto ad esempio a tutto quello che è fotografia corporate o fotografia pubblicitaria che invece sono ancora delle industrie relativamente ricche per cui sì ritratto ritratto essere forti come ritrattisti vuol dire avere delle caratteristiche che o hai un fortissimo impianto stelistico o sei incredibilmente flessibile sono due a pro oppure tutte e due e da questo punto di vista poi è tutto anche trovare i giusti interlocutori e purtroppo non è facile solo che non c'è un consiglio giusto o sbagliato io non mi sono sempre ritrovato nel posto giusto al momento giusto con anche un po' di fortuna non ti nascondo e bisogna far partire tante conversazioni parlare con tante entità differenti fare proposte oggi direi che più che aspettare che bussino alla tua porta ha più senso andare a bussare alla loro con delle idee questo almeno ti mette nella condizione di avere un piccolo vantaggio rispetto al collega che è bravo quanto te o più bravo ma che magari è lì che attende di essere chiamato quando ormai è diventato quasi impossibile la maggior parte di questi progetti editoriali o corporate che faccio oggi sono il risultato di input che do io alle aziende o alle riviste ecco è proprio cosa che ti volevo chiedere nell'editoriale comunque benissimo ok tu hai sviluppato senza dubbio uno stile inconfondibile nel tuo ritratto nella tua ricerca e qui chiaramente abbiamo un approccio diverso che deve seguire comunque la richiesta del cliente però rimane il tuo aspetto propositivo cioè il seguire comunque la richiesta del committente diciamo il messaggio del committente sei tu propositivo in questo senso oppure segui delle linee delle direttive specifiche da cui sei molto imbrigato ma guarda anche qui io non ce la faccio fare una risposta generica nel senso che dipende molto dalla situazione se penso di avere davanti un cliente che possa apprezzare in parte i miei suggerimenti anche perché poi non sono infallibile per cui diciamo che sono sempre poi da prendere magari con le molle però sai avendo fotografato tante persone magari se vedo che un soggetto ha particolari caratteristiche mi permetto di magari scegliere un contesto che possa valorizzarlo di più o semplicemente anche un abbigliamento o una location o anche un taglio fotografico però non tutti i clienti sono aperti sempre a voler ascoltare dei consigli e lì è gioco forza nel senso che io sono una persona molto paziente per cui se vedo che dall'altra parte hanno bisogno semplicemente di un esecutore io mi metto in modalità esecutore la cosa non mi offende non mi crea nessun problema lo faccio quando decidi di essere sul mercato sei comunque al servizio di qualcuno se vuole approfittare anche della tua esperienza penso che sia un suo vantaggio se decide semplicemente di utilizzare come il braccio armato mettiamola così vai lì per realizzare la foto in base a quelle che sono le loro idee poi si prenderanno le loro responsabilità io comunque ci metto sempre il massimo è ovvio che a volte capitano delle foto che non metto all'interno del mio portfoglio perché sono estremamente distanti da quello che può essere il mio modo di vedere la fotografia ma che comunque ho realizzato convinto di volerle fare ma che semplicemente non mi rappresentano restano comunque un lavoro che ho fatto con professionalità e che ho consegnato al cliente ma che il cliente è anche molto soddisfatto e va bene così insomma parte del mestiere non mi stressa assolutamente sono totalmente libero da questo tipo di prevenzione diciamola così chiarissimo beh ok però per scendere da questo diciamo c'è inevitabilmente nel ritratto una componente molto forte di interazione con il soggetto che stai ritraendo questo come cambia nel momento in cui stai facendo un ritratto per te diciamo piuttosto che esatto ritratto di questo tipo piuttosto che un ritratto editorial con personaggi come Giorgio piuttosto che che Giorgio l'interazione è davvero rilevante anche in quel contesto o un po' di meno anche qui dipende molto da intanto dipende dal contesto quindi ti posso raccontare due atteggiamenti che possono sembrare uno il contrario dell'altro ma che in realtà rispondono a quelle che sono quelle necessità del caso intanto ci sono due grandi famiglie di ritrattisti io negli anni mi è sembrato di identificare due famiglie da una parte ci sono quelli che cercano di restituire in maniera sincera il soggetto che è andato avanti è ovvio che è sempre un'interpretazione è sempre una mediazione però sono quei fotografi che cambiano loro per venire incontro al soggetto che è andato avanti sono costretti a trasformarsi proprio per poterlo capire restituire perché sai un ritratto si fa in due un incontro e in questo incontro c'è qualcuno che deve concedere qualcosa non è detto che sia il soggetto secondo me molto spesso è il fotografo e poi invece ci sono quei ritrattisti che vedono invece nell'altro come un uno strumento un'opportunità attoriale hanno in mente il loro mondo la loro narrativa il loro universo e inseriscono il soggetto all'interno di quella scenografia di quel racconto e gli fanno fare una parte e sostanzialmente sono quei fotografi che per certi ripetono quasi sempre la stessa foto io quando lavoro con me faccio parte di questa famiglia della seconda quindi ripeto in maniera quasi ossessiva lo stesso genere e tipologia perché è quello che amo fare è quello che mi piace quello che mi racconta meglio quando lavoro per il cliente invece cerco di venire incontro a quelle che possono essere le esigenze del mio soggetto che magari in quel momento vuole essere documentato in maniera sincera vuole riconoscersi nella foto quindi non sempre sono contento quando un soggetto mi dice cavolo sono proprio io perché come autore in realtà voglio trasformarti voglio sorprenderti voglio farti vedere un punto di vista nuovo diverso inaspettato voglio anche stravolgerti voglio anche metterti in difficoltà invece se sento che chi ho davanti a me vuole una restituzione più sincera e quindi essere più rassicurato rispetto a quello che è la sua idea di sé allora a volte magari invece cerco di andare incontro a questa cosa è ovvio che è difficile modularsi in maniera differente ma ho costruito la mia esperienza proprio cercando di venire incontro a queste due necessità resta il fatto che quando scatto per me non mi pongo il problema io tendo a a non non approfondire molto la conoscenza dei soggetti che scatto per me proprio perché ho bisogno di una sorta di lavagna su cui lavorare quindi questo non vuol dire non voler riconoscere o conoscere alcune loro caratteristiche perché da un punto di vista attoriale può essere molto importante la conoscenza comunque ti dà sempre delle opportunità però resta il fatto che non è detto che i soggetti che fotografo poi siano rappresentati nelle mie fotografie più personali beh allora direi che un esempio di tavola bianca dei soggetti è il tuo lavoro clown wheel lì il soggetto scompare dietro la maschera praticamente com'è che è nato quel progetto? ma quello è nato con intanto l'amore per la figura del clown in tutte le sue eccezioni da anni collezionavo libri illustrati fotografici romanzi e quindi a un certo punto è venuto quasi automatico voler provare a costruire anche un percorso narrativo fatto di immagini la cosa sorprendente è che all'inizio non avevo le idee chiarissime per cui come ogni progetto per quanto puoi programmare poi vai sempre incontro a qualche cosa inaspettato in questo caso l'inaspettato è quello che poi ha ridefinito i confini del progetto le persone mascherate iniziavano a restituire una delle performance anatomiche di posa di sguardo di attitudine sorprendenti e quindi fare l'esperienza del fatto che è proprio vero che quando ti metti una maschera sei libero sei più libero di quando non ce l'hai perché sostanzialmente iniziavo ad ottenere performance veramente incredibile e ho costruito intorno a questo paradigma un po' tutto il progetto per cui ho iniziato a trovare stimolante mettere la maschera a quei soggetti che da una parte mi sembravano molto interessanti da un punto di vista delle caratteristiche anatomiche non necessariamente estetiche alcuni sono grotteschi altri mettono in evidenza magari anche delle deformazioni ma restava il fatto che c'era quella timidezza di alcuni soggetti che mi stimolava cosa c'è dietro quella timidezza che cosa nasconde quel soggetto e mi accorgevo che quando mettevo la maschera tiravo fuori qualcosa di estremamente personale quindi anche se da un punto di vista estetico siamo ben lontani da rappresentare queste persone perché sono tutt'altro poi da un punto di vista emotivo secondo me invece è fortemente rappresentativo e quindi è una specie di trade union tra i due mondi del ritratto di cui ti parlavo prima cioè mi restituisce molto di personale ma non lo fa attraverso la rappresentazione dell'immagine ma attraverso la rappresentazione dell'attitudine che sono due cose completamente differenti qual è stato qual è stato il tuo primo scatto di clown deal un autoritratto che non c'è qui nel senso che il primo che ho fatto mi sono truccato io da solo non ho fatto un autoritratto quello che ho visto mi è stranamente piaciuto e ho detto guarda non male proviamo ad applicarlo dopodiché il primo scatto è stato questo quindi questa è stata la prima fotografia che ho scattato e ho una persona a me molto cara e molto vicina e l'esperienza mi ha portato poi a voler continuare con la serie non ti nascondo che ci sono stati anche degli scatti che non sono che non hanno funzionato non sono infallibile come non è nessun fotografo e quelli che non hanno funzionato non sono presenti nella serie sono serviti a capire meglio come gestire il progetto cosa aspettarmi dalle persone come imparare come stimolarle come costruire una giusta interazione perché comunque poi non è sempre facile alla portata di tutti accettarsi trasformati in questo modo non ti nascondo che ci sono state anche delle persone che ho dovuto convincere una volta fatto la foto a permettermi di utilizzarla perché erano rimaste sconvolte anche perché qui poi c'è un po' di tutto ci sono fotografi famosi qui trovi dal vicino di casa fotografi molto noti per cui e a parte Steve che probabilmente si riconosce ma ci sono anche attori io non dico mai chi sono le persone che ho fotografato ma c'è un po' di tutto da amici al vicino di casa al mio macellaio all'attore super famoso al fotografo molto importante quindi mi piace anche proprio mischiare diversi soggetti perché era facile farlo con tutti i personaggi più o meno noti ormai la serie è andata talmente tanto in mostra e pubblicata che mi è risultato abbastanza facile poter coinvolgere anche i noti i visi noti ma poi mischiare personaggi noti con con l'ex compagno di classe delle medie è qualche cosa che mi affascina ma non solo per il virtuosismo è banale ma proprio perché in realtà poi la maschera è democratica per certi versi rende tutti uguali perché ti ti rende ti mette sulla stessa linea indipendente da chi sei quello che è la sua storia il tuo passato ecco comunque qua hai citato un concetto interessante che hai anche messo in evidenza prima che direi merita di di soppesare maggiormente più di una volta tu dici ok ci sono degli scatti che non ho messo nel mio portfoglio che non mi rappresentano all'interno di Cloudville ci sono stati degli scatti che comunque ho deciso di non mettere perché non erano giusti devo dire che metti sempre davanti un forte spirito critico e autocritico anche nel tuo lavoro quindi il lavoro di selezione dell'immagine quindi di scelta dell'immagine è comunque un qualcosa di di predominante che senz'altro è anche difficile perché non sempre devo dire visitando i siti anche di fotografi qualche mio cliente vedo a volte delle forti disparità delle immagini che ti colpiscono tantissimo e delle immagini che dici ma boh perché ha messo questa immagine cosa che non accade invece visitando il tuo sito perché noto comunque una coerenza stilistica è buono perché sicuramente invece secondo me anche visitando il mio probabilmente sono delle cose meno forti però sì guarda ti dico una cosa non ho mai avuto problemi a scegliere le mie foto dal primo giorno non ho mai avuto un dubbio ma non perché non ho dubbi ma perché il portfoglio di un fotografo a meno che posso avere avuto dei dubbi per mostri importanti dove magari facevano un catalogo e quello poi viene storicizzato se no il portfoglio di un fotografo è una creatura dinamica che cambia con il fotografo oggi mi piace domani no oggi sta sul sito domani lo tolgo e dopo domani lo rimetto non si tratta di isteria cambiamo cambiamo abbiamo delle incertezze io ho sempre scelto le mie foto velocemente da solo senza troppi dubbi questa mi piace poi ogni tanto ci riguardo e se devo cambiare cambio non 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 lo vivo come uno stress sono sempre stato molto libero da da quelle incertezze tipiche poi ho sviluppato anche i miei metodi i miei modi ho costruito un modo di scattare che mi permette di selezionare molto facilmente siccome la fase di selezione può essere molto lunga io scatto tantissimo io sono di quei fotografi che porto a casa quantità di materiale mostruose e che è un archivio veramente gigantesco in quest'ottica qui quindi per me la fase di anche di selezione e diventa un momento da un punto di saputamente pratico che devo poter gestire senza perdere troppo tempo per cui scatto in modo tale da costruire delle serie fotografiche delle sessioni all'interno della stessa sessione che mi facilitano nel processo di scelte io lavoro per piccole correzioni successive stimolo il mio soggetto a performare seguendo quelli che io definisco dei miei pattern mentali non lo faccio in maniera cosciente al soggetto però quando poi le mie provinature vedi grandi quantità di foto molto simili che però in realtà se le vedi velocizzate diventano come un film c'è movimento c'è c'è un'elasticità è una fruttità e so sempre che costruendo le immagini in questo modo se parto a selezionare dalle ultime al contrario ho un vantaggio perché se tu parto se parto dalle prime so che le mie foto migliorano lungo il percorso è un continuo no questa è migliore di questa no questa è migliore di questa partendo dalle ultime le prime che seleziono di solito sono le migliori raramente mi capita di avere qualche scatto perché poi per carità come tu sai una sessione di ritratto è fatta anche nei momenti di sorprese inaspettati per cui può capitare uno scatto tra dieci di costruzione che magari ha delle caratteristiche che lo rendono un finale però questo modo di lavorare e questo modo di selezionare è reso le mie le mie selezioni decisamente veloci in media faccio una sessione di ritratto delle mie di queste posso arrivare a scattare due o tre mila foto per selezionarne una decina di solito la fase di selezione è raro è raro che superi dieci minuti un quarto d'ora massimo anche perché la faccio il giorno dopo che ho scattato a mente fresca non ho mai creduto a quella cosa che per cui fai passare un mese così le riguardi con un occhio verge no le riguardi incazzato perché non ti ricordi nulla per cui fai una pratica disumana a ricordarti quello che hai fatto invece preferisco guardarle con l'occhio fresco di chi ha appena scattato e risolvo la questione poi nulla toglie che tra dieci anni le vado a riguardare e dico cavolo che cretino che sono stato non ho selezionato questa foto e vabbè me ne farò una ragione non muore nessuno ecco vediamo un altro aspetto un aspetto magari un pochettino più tecnico che ovviamente ci tocca anche da vicino in tutti i tuoi ritratti comunque c'è una doppia componente che mi colpisce una è quella della luce e l'altra è quella anche della post-produzione anche se faccio fatica a volte pur vendendo luce a capire dove inizia uno e finisce l'altro così rispondiamo anche ad una domanda che era stata fatta all'inizio cioè quanta post-produzione c'è effettivamente all'interno a prescindere dal progetto di Clownville beh l'immagino che sia importante però nel da ritratto autoriale così come quello autoriale quanto è importante l'aspetto di post-produzione e quanto invece è importante da avere già uno scatto in macchina dal punto di vista luci corretto ma devo essere sincero di re-light quindi di re-illuminare digitalmente le foto se lo faccio vuol dire che ho proprio sbagliato la foto per cui è una cosa che tendo a non fare nel senso che cerco sempre di ripartire con del materiale che abbia delle caratteristiche tali per cui la post-produzione è un valore aggiunto non è un lavoro correttivo è ovvio che a volte sbaglio con gli anni sempre meno per cui faccio in modo di ottenere dei file dove poi tutto il lavoro di post-produzione è un lavoro per migliorare posso volver dire tante cose si parte dalla basica contrasto color correction cose piuttosto basilari che semplicemente servono per riequilibrare un minimo alcuni percorsi all'interno della foto e dargli un modo un sapore particolare che può essere legato un impianto stilistico o ha un particolare risultato che vuole ottenere poi invece c'è la post-produzione ad esempio della pelle che è un diverso approccio e quello dipende molto da chi è il cliente e che cosa stai facendo io tendenzialmente se posso cerco di lavorarci il meno possibile a volte è una richiesta altre volte magari sei costretto ad avere la mano un po' più pesante perché magari volevi comunque volevi una luce più di taglio e le caratteristiche della pelle della persona non lo permettevano e quindi sa che dovrei mediare sulla post-produzione è sempre un po' un discorso sul potenziale a volte sei costretto la cosa importante è scattare già pensando alla post-produzione cioè non è un problema che ti poni dopo è qualche cosa che fa parte del processo produttivo per cui se a un certo punto ti capita un soggetto che reputi rendere molto bello in termini di sguardo di presenza scenica con una luce molto dura e ti accorgi però che magari ha una pelle un po' rovinata devi decidere da subito cioè già sai che lì ci sarà da intervenire di più e quindi poi compatibilmente con la tua capacità con i tempi che hai a disposizione con il budget con poi se è un lavoro tuo con la tua aspirazione a fare quanto di meglio possibile saprai che dovrai fare un lavoro correttivo altre volte ne fai pochissimo ne fai pochissimo beh stranamente pensa Crownville è una di quelle serie dove c'è meno post-produzione c'è un grosso lavoro analogico e poi un grosso lavoro di color ma non c'è tranne un paio di foto che c'è un compositing piuttosto evidente ma tendo a farne sempre meno preferisco lasciarle piuttosto natural mettiamola così lì di post-produzione è solo un lavoro di color in tutto il resto è un gran lavoro analogico fatto anche da i professionisti che mi aiutano con la trasformazione quindi a Valeria Orlando per il make-up e poi quel minimo di scenografia che facciamo il mio lavoro di ritratto ricondivido un attimino lo schermo al volo varia molto se tu vedi in generale se posso tendo a vediamo un po' se appare l'immagine eccolo qui a cercare di mantenere un minimo di caratteristiche della pelle fermo restando che c'è ovviamente un lavoro di pulizia a meno che non hai 12 anni non hai una pelle comunque senza neanche un minimo di discromie o disegni del tempo e ho avuto la fortuna di esistere ad un tuo corso quindi dove hai anche raccontato del tuo metodo di schigliettacce sì nel senso che poi sai ogni foto dipende dal tipo di luce che utilizzi è molto difficile essere costante quando cambi molto la luce la luce è segnante per cui definisce in maniera forte l'impianto osselistico e resta il fatto che certe volte devi anche essere più importante in termini di post-produzione io cerco di mantenerla nei limiti del decente ogni tanto la mano va oltre e mi tocca rimetterci mano perché mi accorgo che magari ho un po' esagerato però più passa il tempo e meno cerco di essere troppo 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 forte mi piacciono le occhiaie mi piacciono i segni del tempo è ovvio un brufolo una vena sotto pelle quelle sono tutte cose che cerco di togliere certo e senti di tutti questi ritratti ce n'è uno a cui sei particolarmente affezionato in maniera allora intanto è ovvio che sei sempre un po' affezionato delle ultime cose che fai sono un po' il risultato di sforzi di un percorso di ricerca per cui se ti dovessi dire un ritratto che ho fatto in passato e che amo molto su cui sicuramente costruirò qualche cosa è questo vediamo se lo trovo perché poi vedi quanto sono diverse le cose che facciamo in studio passo dal ritratto più classico a cose decisamente più costruite per cui come quando parlavamo di post produzione come puoi ben immaginare una una cosa del genere c'è una quantità di post produzione impressionante quindi completamente diversa rispetto alle foto che ti ho fatto vedere prima aspetta vediamo se la carica ecco qui come puoi immaginare anche questo per certi versi per me è un ritratto però resta il fatto che qui è 99% post produzione comunque parlando di foto che amo particolarmente eccola qui questo qui questo ritratto che presentasse per certi versi probabilmente in futuro una serie questo non mostrarsi mi piace tantissimo ci trovo molto del tipo di poetica e di estetica che mi piacerebbe perseguire nei prossimi progetti ho già iniziato a fare un po' di sperimentazione quindi se dovessi scegliere una foto questa è un'immagine che penso la guardo come se non fosse mia quindi me l'attaccherei al muro cosa che raramente mi capita di fare con non ho immagini mie in casa non ho immagini mie in studio per cui mi piace quando le attaccano gli altri però nelle loro case mi attendo a non farlo io questa è un'immagine che non mi stanca mai l'ho fatta tanti anni fa e che mi che mi affascina sempre se volevi un ritratto questo è una foto che amo molto un non ritratto un ritratto non ritratto sì questo non concedersi mi piace perché c'è una frase che ho sempre amato tanto che diceva che colui che guarda come era aspetta colui che guarda è strappato a se stesso che è di un filosofo che parlava di Medusa se ci pensi è una bella metafora Medusa perché i fotografi sono un po' come Medusa quando li guardi ti trasformano in stato fermano il tempo e diventi eterno e allora il non mostrare lo sguardo è un po' come proteggersi da questa ossessione del registrarti per sempre quindi mi affascina questo concedersi non concedersi questo fuggire attraverso la negazione dello sguardo quindi da questo punto di vista in realtà ne ho già fatte diverse di foto all'interno di questa di quest'area sto solo cercando di capire di come renderle importanti e fare magari un progetto meriti un investimento temporale come Clownville o Propaganda o altri progetti su cui abbiamo lavorato diverso tempo senti l'eolo autore quindi la parte artistica è comunque apprezzata dal punto di vista del committente commerciale o è qualcosa che serve che ti è servito oppure sono due mondi che tieni proprio scissi fra di loro guarda devo essere sincero tutti gli investimenti che ho fatto negli anni da un punto di vista di costruzione di immagini per il mercato fine art o comunque per la mia espressività personale hanno sicuramente avuto riscontro anche nell'universo commerciale non sempre i clienti poi hanno necessità di comunicazione che possono essere compatibili con un immaginario che è difficilmente collocabile se tu vedi queste immagini per esempio che ci sono adesso non raramente possono essere inserite in un contesto del genere ma anche in qualche cosa di un po' più ampio per cui apprezzate per fortuna anche apprezzate abbastanza bene anche nel mercato fine art abbiamo un buon mercato anche non tantissimo in Italia in Italia non si compra tantissima fotografia oppure probabilmente non ho io i canali giusti però negli Stati Uniti nel sud est asiatico in Germania vendiamo tantissimo in termini di abbiamo diverse gallerie che ci rappresentano e devo essere sincero ci dà anche buone soddisfazioni come 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 mercato in termini di ritorno sui clienti commerciali ti direi di sì però poche volte mi hanno pochissime volte mi hanno permesso di poter poi riportare nei progetti questo tipo di impianto stilistico è una cosa che a volte mi ha anche un po' dispiaciuto perché secondo me potevano sfruttarmi in maniera migliore però poi sai vai a ti apro la pagina pubblicitaria se tu vedi c'è un minimo di quello che faccio nella parte più creativa presente in queste immagini però poi è ovvio che devi sempre declinarle per un prodotto per un servizio per qualche cosa che necessita poi di un pubblico che ha delle aspettative differenti io quando posso ci provo a metterci un po' di immaginario nelle mie cose e probabilmente un po' si vede nelle pubblicità che faccio che c'è questo tentativo di costruire delle cose un po' diverse scattare un make-up c'è tanto know-how costruzione e quando fotografi in viso è sempre comunque rientra nella sfera delle problematiche del ritratto comunque un essere umano per quanto poi trasformato un po' in oggetto perché sta vendendo un trucco un make-up però resta il fatto che le dinamiche di equilibrio di gestione di portare il soggetto anche a performare in un determinato modo sono le stesse del ritratto classico per cui quel tipo di esperienza comunque poi poi ritorna tu hai anche un forte connotato che qua però non abbiamo visto che è quello dello street photographer sì come per magia è un ulteriore mondo a tutti gli effetti perché è un almeno non riesco a trovare un collegamento una connessione tra i due o magari mi sbaglio dimmi tu ma guarda la fotografia di strada è è un genere fotografico intanto è un genere vecchio come la fotografia nel senso che nasce insieme sostanzialmente insieme alla fotografia perché è il risultato di un gesto molto semplice mettersi la macchina al collo in strada e fotografare quindi non necessita di tutta quell'infrastruttura e di tutta quella di quelle diciamo requisiti minimi che possono richiedere altri generi fotografici un minimo di progettazione anche solo banalmente un minimo di progettazione nella street non è presente la street lavora sull'occasione sull'opportunità sul fotografo che riconosce qualcosa di straordinario nel nell'ordinario e quindi in quest'ottica qui la street per me è una disciplina forse intanto è forse il genere fotografico che amo fare di più purtroppo non ci posso essendo fotografo commerciale posso dedicare alla street non probabilmente tutto il tempo che vorrei però quando mi capita di fare dei progetti all'estero dei progetti che mi vedono viaggiare di solito cerco sempre di rimanere qualche giorno in più nella città che mi ha ospitato proprio per poter sfruttare l'occasione di poter fare della fotografia di strada e mi piace sia perché mi piace come disciplina quindi sia perché come spesso poi ripeto anche nei nei miei workshop è incredibilmente formativa e racchiude in sé tutti i generi fotografici secondo me c'è il ritratto c'è la documentazione specialmente se lo fai con un taglio più documentale ma c'è anche il fine art perché spesso la fotografia di strada può essere anche approcciata con un forte connotazione d'astrazione d'astratta perché tu magari costruisci realtà che nulla hanno a che vedere con il luogo e le persone che stai fotografando ma generi narrative nuove proprio mettendo insieme in relazione una serie di elementi che non nascevano per essere messi in relazione tra di loro quindi costruisci una poetica totalmente indipendente dal contesto è proprio il risultato è quello che io chiamo un lavoro autoviale cioè riconoscere e utilizzare la realtà diciamo come uno strumento per costruire storie originali e poi come dicevo è incredibilmente formativa perché ha scatti sempre fuori dalla tua comfort zone non decidi la luce non decidi chi sono gli attori lo decidi soltanto all'ultimo istante se fai ritratto di strada sei costretto a dire con soggetti che non erano non si immaginavano neanche minimamente di dover avere a che fare con un fotografo quindi devi costruire un contesto velocemente devi costruire consenso devi costruire interazione devi costruire emotività empatia e anche una bella fotografia perché poi tutto il suo lavoro se non ti porta a costruire poi un contenuto è sostanzialmente non solo hai perso il tuo tempo ma anche della persona che hai avvicinato e con cui hai interagito per cui per me è un piacere farla ma è anche uno strumento di crescita incredibile devo essere sincero io la consiglio a tutti i miei studenti qualsiasi sia il genere fotografico che decidono di affrontare ritratto moda reportage documentazione eventi fare street ti permette di esercitarti esercitarti in continuazione senza aver necessità di avere un contesto simile a quello dove opri normalmente perché tanto se ci pensi c'è un po' di cerimonia c'è un po' di evento c'è un po' di reportage c'è un po' di ritratto c'è un po' di composizione c'è un po' di gestione della luce di interazione con l'altro ti rafforzi come carattere diventi più bravo nel gestire le situazioni fotografiche e non a caso tutti i grandi maestri che ho assistito mccarri natchway elio terwitt eugen richard midi dieri sono tutti fotografi che quando non scattano per un cliente sono in strada con la macchina al collo chiamala street chiamala come ti pare per essere il fatto che si confrontano con il quotidiano alla ricerca di bellezza e di farci vedere quello che è ordinario con un occhio diverso e poi una delle cose più belle della fotografia quella di mostrarci ciò che ci sembra evidentemente banale per farcelo vedere con un punto di vista diverso scoprire che invece è eccezionale per cui sì c'è una forte c'è un forte c'è un forte legame tra tutto quello che faccio alla fotografia di strada almeno io lo sento fortissimo ecco c'è questo risponde magari anche alla domanda che ci sta facendo adesso Salvatore dove ci chiede se hai mai utilizzato il genere street per il commerciale guarda da quando ho inserito il mio portfoglio di fotografie di strada all'interno delle mie presentazioni commerciali ho preso molto più corporate perché i cliente riconoscono nella fotografia di strada la capacità del fotografo di anche se poi magari è un fotografo che in realtà ha un approccio più astratto alla realtà però comunque riconoscono una capacità di lavorare all'interno del quotidiano e quindi anche nel quotidiano delle loro aziende e quindi mi è capitato di prendere dei lavori che precedentemente non prendevo perché magari guardando il mio portfoglio o di ritratto classico o di ritratto creativo pubblicitario avevano paura che rappresentassi in maniera troppo artificiale quella che era la loro realtà mentre guardando la fotografia di strada hanno visto un fotografo che aveva anche la capacità e la sensibilità magari di muoversi all'interno di contesti più normali tra virgolette ma proprio in un'ottica di ma anche semplicemente di gestione del progetto di stare in strada di stare all'interno di ambienti anche con diversi tipi di complessità quando lavori nel corporate puoi ritrovarti da scattare l'ufficio dell'amministratore delegato a stare in una grotta con gli operai e dover documentare il loro lavoro corporate è un universo dire lavorare per grandi aziende che necessitano magari anche solo di documentare processi produttivi o di raccontare eventi o particolari momenti della loro storia e il portfoglio di street devo essere sincero da questo punto di vista è stato un devo essere sincero con sorpresa all'inizio timidamente lo abbiamo inserito all'interno delle presentazioni e poi piano piano con il tempo è diventato a volte anche un punto di forza in certe gare in certe situazioni in cui dobbiamo comunque proporci per per un progetto beh quindi ritratto d'accordo street benissimo abbiamo visto l'eolo artista ma c'è un genere fotografico che proprio ti fa una gran fatica da scattare la fotografia la fotografia mi piace tutta nel senso che poi sono uno che amo sperimentare però so anche quali sono i miei limiti per cui più che non piacere farlo è semplicemente che sono una schiappa per cui non sono uno specialista dello still life ovvero se devo scattare una bottiglia magari ci riesco anche ma se poi la vedi scattare da uno che lo fa per mestiere ti passa la voglia insomma capisci che comunque ne hai di strada da fare prima di essere diciamo anche solo minimamente accettabile rispetto a quelli che possono essere le aspettative di un certo tipo di industria per cui no non c'è niente che non amo fotografare mi piace proprio il gesto l'atto il sentirmi fotografo in tutti i contesti semplicemente evito di dovermi vergognare di alcune cose che ho fatto quindi se non è il mio genere lo faccio fare a qualcun altro oppure rifiuto gentilmente insomma tutto qui e senti nel tuo tempo quindi quanto scatti in studio e quanto scatti invece in location o dal cliente ultimamente molto in studio ma questo perché se ci stiamo vivendo è bello gioco forza adesso è facile però diciamo se dovessimo parlare di una situazione pre-covid e quindi con una situazione più normale direi che più o meno 50-50 nel senso che metà del tempo vengono nel mio studio e metà del lavoro invece è fatto è fatto in location presso le sedi dei clienti o poi nei paesi in cui ci mandano a scattare sì metà e metà più o meno metà e metà direi non vorrei sbagliarmi ma direi 50-50 e poi la fotorefe di strada quando posso mi regalo una mezza giornata per Roma che ormai è diventata il mio laboratorio ce l'ho aperto nel mio quartiere quando non scherzo quando mi vedono arrivare buttano la sigaretta rientrano nel bar perché sono diventato un incubo gli sfrutto in tutti i modi possibili e immaginabili però insomma quando posso vado con la macchina al collo e anche mi rilassa molto mi permette anche di vivere il gesto fotografico con quel romanticismo che faceva parte del mio immaginario quando ho iniziato a scattare fare fotografie per mestiere è tutta la fase di industrializzazione dei processi fa sì che è diventato un lavoro corale anche quando faccio una sessione di ritratto con un soggetto comunque ho due assistenti ho magari l'amministrazione che non vede l'ora di beccarmi per parlare di quel problema x o y e quindi è il fatto che poter invece uscire in strada la macchina al collo da solo è un bel regalo che riesco a farmi per cui quando posso scappo insomma va bene Eolo non ti voglio rubare altro tempo ma lasciamo magari qualche minuto a disposizione del nostro pubblico se vogliono fare delle domande a cui non abbiamo ancora dato risposta adesso stavo guardando velocemente se abbiamo saltato qualche domanda Massimo eventualmente intervini anche tu se sei dotato magari nel frattempo delle domande che mi sono sfuggite ah beh sì ultima di Salvatore ma qualcosa ci hai già detto che chiede se fai paesaggi ma mi è capitato di farli in quei momenti mai professionalmente non ne ho mai chiesto per lavoro ho avuto la fortuna di viaggiare tantissimo voi come assistente di studio voi sui miei progetti per cui ho un mio personale archivio di foto di paesaggio che sono a metà tra il fare memoria quindi la foto ricordo fatta però con l'attenzione di un fotografo con una mia esperienza ma ben lontane dalle foto di un professionista che fa quello per il mestiere insomma ok vediamo un pochettino se c'è ancora qualche altra richiesta ah sì dunque c'era una domanda così estemporaria che però può essere interessante affrontare sul ritorno della fotografia analogica allora il tuo lavoro è tutto in digitale o c'è ancora qualcosa in pellicola io ho fatto tanta pellicola per lavoro quindi ho iniziato scattando la pellicola ho iniziato a fare il fotografo pubblicitario e commerciale con la pellicola per cui non sento quella necessità di un ritorno devo essere sincero il digitale è stata una liberazione e per certi versi liberazione in termini di processo perché puoi immaginare che poi in particolare quando ho lavorato per l'editoria dove si doveva consegnare con il turbo lavorare con la pellicola era veramente una fatica incredibile ma anche le campagne non mi scorderò mai abbiamo fatto una campagna per un canale televisivo cinese mi ricordo scattavamo in pellicola scattavo il primo rullo in medio formato mentre scattavo il secondo c'era l'assistente col motorino che lo portava al laboratorio per sviluppare per tornare velocemente e vedere una pre-stampa e capire quello che stavamo facendo era complicatissimo da quel punto di vista quindi adesso al momento non ne sento una necessità ma neanche nel fine art quindi? no perché devo essere sincero guarda tutto ciò che parte dalla pellicola per arrivare a una scansione è un non-sense secondo me nel senso non è che è un non-sense è semplicemente un processo che è diverso da scattare una pellicola e scampare a mano per cui se fai fine art nel senso che costruisci un'immagine in pellicola la stampi in camera oscura e quello fa parte della tua poetica del tuo percorso anche perché da quel punto di vista ricordiamoci che crei sempre un pezzo un pezzo unico è una delle caratteristiche della stampa analogica quella che ogni immagine ha la sua storia ed è legata al momento in cui è stata stampata e quindi da tutte quelle caratteristiche che sono nell'universo dell'analogio che la rendono unica appena entra in gioco un processo di digitalizzazione è comunque una foto fatta in pellicola digitalizzata è diversa da una foto digitale non voglio dire che sono la stessa cosa però diventa qualche cosa che faccio un filino più fatica a capire in termini di processi produttivi e da un punto di vista anche di processi diciamo creativi digitale mi permette una libertà incredibile ormai la qualità dei file è talmente alta che faccio veramente fatica ad apprezzare un atteggiamento differente resta il fatto che ne resto affascinato quando vedo dei lavori fatti in analogico e stampati a mano e a volte verrebbe quella voglia di fare probabilmente sono all'interno di un turbine di processi di lavori di situazioni che mi rendono complicato anche solo pensare di imbastire un processo del genere ma come tutti tutti i fotografi un giorno sarò un grande vecchio e probabilmente mi verrà voglia di di metterci di nuovo mano adesso non riesco proprio a trovare gli stimoli per farlo bellissimo vediamo un'altra domanda c'è Michele ci chiede allora nella fotografia di street hai mai avuto problemi di privacy o altri episodi spiacevoli allora intanto questo lo diciamo anche nei workshop quindi la fotografia di strada non è tanto un problema di privacy ma di diritto all'utilizzo dell'immagine che sono leggi differenti la privacy è quando ti chiedo informazioni personali o entro in ambiti che non hanno molto a che fare con la tua immagine invece l'utilizzo dell'immagine personale sono problematiche differenti si fa molta confusione e ovviamente questa confusione come ce l'hanno i fotografi ce l'hanno anche le persone che vengono fotografate no particolari problemi non ne ho mai avuti sinceramente ho imparato a cavarmela in tutte le situazioni a gestire anche il dissenso a vivere in maniera molto rilassata tutti quei momenti di incontro che a volte possono approssimarsi a uno scontro in Italia nei paesi occidentali mai avuto problemi qualche problema in più quando mi sono trovato a lavorare in paesi un po' più complicati come l'Africa il Sud America ma quello è più legato ai luoghi e non al modo di lavorare o alla tipologia di fotografia in generale dico sempre di stare tranquilli non si fa niente di male stiamo semplicemente scattando in un luogo pubblico quindi le leggi italiane poi ovviamente informiamoci per ogni paese a leggi diverse per cui nel paese che vai leggi che trovi quindi di documentarsi perché poi magari sei abituato a lavorare in un paese che ti dà più opportunità e poi in un altro invece devi semplicemente sottostare a degli obblighi di tipo diverso in Italia le leggi che che entrano in gioco quando si parla di fotografie in un luogo pubblico danno abbastanza libertà di movimento sempre però nei limiti di quelle che sono poi le le sensibilità di chi si va a incontrare perché una cosa è la legge il più grande momento di libertà dico sempre è quando posso decidere di non usufruire di un diritto quella è la vera libertà cioè quella libertà di dire se questo è un mio diritto posso poter fare in strada ma se vedo che quella persona è insofferente o lo vede come una mancanza di rispetto posso scegliere di non e quindi di venire incontro a quella che è una richiesta di cancellazione di una foto sono diventato molto bravo a convincere le persone perché poi la persuasione è una delle caratteristiche più importanti di qualsiasi ritrattista sia di studio che di strada per cui sapersi raccontare spiegare quello che si sta trovare un attimo di vicinanza di comunione di empatia con il soggetto è ovvio che è una caratteristica che un fotografo di strada deve sviluppare non è che fai una foto e scappoli per cui scatti e se la persona ti dice perché mi hai fatto una foto devi saper poi imbastire una conversazione e poi provare a convincerli sai io solito faccio così guardo la foto la riguardo velocemente se la foto è brutta la cancello e finisce lì è inutile perdere tempo nel mio o nel suo se la foto merita un secondo sguardo quindi una visione più attenta quando torno in studio cerco di convincere la persona che ho scattato che gli spiego quello che sto facendo gli faccio una battuta non c'è un metodo lineare perché non è che poi non c'è una parolina magica e se la dici poi a secondo di chi è davanti con l'esperienza comincio ad avere qualche capello bianco risponde magari anche alla domanda che ci sta facendo Andrea adesso le domande sono arrivando all'Africa vedo che ci chiede appunto qual è l'approccio per fotografare le persone in strada solleva l'osservazione che spesso si è timidi nel fotografare le persone perché si teme magari una reazione da parte di chi è fotografato ma guarda ripeto non c'è un approccio facciamo una parolina magica diciamo che io mi modulo a secondo del tipo di tratto che sto facendo in studio sono molto sono abbastanza distancato silenzioso attento per me la distanza dal soggetto a volte è uno strumento di lavoro è una distanza controllata che mi permette di avere quella giusta risonanza nel momento in cui richiedo o stimolo la persona a determinati atteggiamenti e cambiamenti per cui non do mai troppa confidenza alle persone di favore con il mio studio in strada è completamente il contrario sono un ragazzotto piuttosto grosso quindi ogni tentativo di essere invisibile è fallito miseramente anche con le macchine più piccole quindi non è una questione di macchina è una questione di quanto sei grosso tu perché puoi avere anche una compatta ma se sei alto 1,85 sei un cristone per cui insomma evito la mimetica dietro un secchione con 300 mm per cui io lavoro con il grandangolo quindi io sono un fotografo di prossimità sono sempre molto vicino alle persone per cui in quest'ottica qui utilizzo un atteggiamento di estrema positività e rumorosità io sono molto rumoroso arrivo in un posto e conosco tutti dopo tre minuti la mia estrema rumorosità però mi rende estremamente mi dà una forma di invisibilità differente quella della persona che viene subito percepita come non pericolosa che non vuole rubare niente non è inquietante ecco diciamo che probabilmente non sono inquietante entro nei contesti urlando parlando ridendo a voce alta e questo mi permette di poi accedere alle persone in maniera più facile per cui se qualcuno mi guarda la prima cosa che faccio è lo guardo fisso negli occhi mi avvicino ed è un atteggiamento diverso rispetto a chi si sente di essere stato colto con la mano del miele e dice cavolo stavo rubando vedere me che mi avvicino faccio un sorriso gli dico guarda non ho resistito sei bellissimo sei bello oltre ogni immaginazione mette l'altro in una condizione inaspettata tutti i miei momenti di prossimità e di ingaggio sono basati su questo rumore che va oltre il rumore di fondo delle città che va oltre non lascio dubbi se sono in strada mi senti mi vedi allora stiamo andando un po' lunghi però c'è una domanda che a questo punto mi sta intrigando anche perché questo aneddoto non lo conosco c'è Andrea che ti dice anzi che dice a me di chiederti a Verona e io lo riuscì a convincere una coppia a farsi fotografare parlando semplicemente di lui ti ricordi questo evento ti ricordi qualcosa vuoi raccontarcelo non me lo ricordo nello specifico però devo essere sincero io tendo a quando vado cerco di fare il ritratto in strada ci sono due atteggiamenti possibili il primo è quello di fare la foto e magari non ti vedono ma non è più un ritratto è più un lavoro di costruzione formale di un'inquadratura con all'interno un soggetto però il ritratto è quando c'è un minimo di interazione secondo me che può avvenire prima o dopo aver fatto la foto a volte avviene prima tramite uno scambio di battute di interazione oppure dopo fai lo scatto e poi ci parli e in quest'ottica qui quando decido di parlare prima perché mi accorgo che è necessario ovvero non ho bisogno non mi piace il soggetto ad esempio faccio un esempio vedo una faccia che mi piace ma non mi piace la luce non mi piace il contesto però voglio voglio ritrarla è ovvio che devo entrare in relazione con lui perché devo convincerlo a fare 30 metri per andare a magari attraversare la strada dove c'è una penombra oppure semplicemente un colore del fondo oppure meno rumore sui vari piani per cui riesco a contestualizzarlo meglio oppure a estrapolarlo dal contesto perché magari il contesto in quel momento non funziona e quindi devo entrare in interazione e per farlo io non chiedo mai posso farti un ritratto io entro in relazione in base a quello che il mio istinto mi dice posso fargli una battuta su come è vestito posso dirgli qualche cosa di inaspettato rispetto al contesto in cui si trova posso fare come ha detto questo studente che vado e gli racconto una storiella su di me la mia battuta tipica è abbiamo lo stesso cane magari becco uno col cane e gli dico abbiamo lo stesso cane ho tutti i cani del mondo praticamente nel senso che ho lo stesso maglione o assomigliano a mio zio oppure sembrano mio padre la giovane o semplicemente gli dico che sono bellissimi e poi gli faccio un sorriso oppure guarda non ho un modo il mio approccio è il risultato di tanta esperienza che però poi si manifesta con un istinto perché è qualche cosa che costruisco lì per lì io li chiamo i miei progetti di 5 secondi cioè c'è una forte componente progettuale ma che inisce e finisce in tempi relativamente brevi è questa caratteristica della street che ti costringe a riuscire a costruire fotografia perché questa è fotografia è soggetto contesto luce narrativa in così poco tempo è uno stimolo incredibile è un esercizio pazzesco averlo ripetuto migliaia di volte perché poi io non è una cosa che faccio raramente ho forse quasi diecimila ritratti in strada in archivio sono tantissimi non sto parlando di centinaia sto parlando di migliaia quindi puoi immaginare che ho preso una quantità di vai a quel paese o di approcci sbagliati su cui ho costruito la mia esperienza le prime volte andavo con la macchina e a 20 centimetri abbassavo la testa e giravo da un'altra parte perché non mi leggeva la tensione e poi sono un timido di natura per cui il mio DNA la mia educazione mi ha fatto sì che nascessi timido per cui poi dover costruire una scorsa più dura è stato un risultato di esercizio testardaggine ed errori sul campo la fotografia si fa con la testa la testa è un muscolo va allenato tutto qui quando va male devi accettare la stritta è proprio una disciplina del fallimento quelli bravi tendono a fallire un po' meno però fa parte del processo se impari a processare il fallimento diventi un bravo fotografo di strada è tutto lì sembra banale ma è quello il processo è molto personale non è legato agli altri non è legato alla macchina fotografica per carità poi ci sono gli aspetti tecnici che sono importanti ma quelli li impari quello invece più legato all'attitudine è semplicemente la capacità di processare l'errore di dargli un senso di sentirlo parte integrante di un percorso e poi di reiterare in continuazione perché come tutte le discipline reiterare è fondamentale mai come nella street sbagliando si impara e proprio l'hanno creato per la fotografica di strada questo proverbio per cui c'è poco da fare così sono convinto allora siamo andati siamo andati lunghissimi ti chiedo ancora di rispondere Alberto dimmi Massimo ci sono un po' di complimenti ad Eolo che magari potresti leggerli te li ho mandati e vabbè sicuramente li erano fatti mille volte ma credo che sia carino anche leggere qualcuno di questa in diretta e ti ho mandato anche qualche domanda da Youtube non so se le vedi ho visto sì 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 infatti no stavo giusto guardando la chat con quello che mi hai girato mi permetti c'è una domanda di Mauro che penso sia interessante mi permetto di rispondere per quanto riguarda la componente esprettiva del soggetto quello guido per tutta la sessione parliamo di ritratto in studio mi affido al soggetto ecco e anche qui dipende io inizialmente tendo a osservare molto e a lasciare il soggetto un po' libero perché è un'opportunità che potrebbe poi non ricapitare nel momento in cui decido di fare il marionettista ovvero di controllare controllare un parolone comunque di stimolare il soggetto e a pressarlo per andare in particolare direzione ovviamente il ritratto si fa in due è sempre una media e quindi il risultato è il risultato da una parte della capacità del fotografo di osservare riconoscere qualche cosa che abbia un senso un valore e la capacità di intervenire nel momento in cui viene a mancare per voi per mancanza di esperienza di timidezza o semplicemente per aver contestualizzato male la sessione spesso si pensa che sia un problema non dell'altro questa brutta sensazione di andare a casa e sentire di non aver ottenuto quello che si voleva è una delle domande che più spesso mi sento fare durante i miei workshop one on one ed è una delle cose su cui ho imparato a lavorare ho imparato a risolvere perché anche in questo caso è un problema di processo ed è anche un problema di quello che si pensava di volere non si hanno mai si scopre scopro sempre che i fotografi non hanno in realtà le idee chiarissime questo è uno dei primi problemi perché confrontarsi con la propria confusione quando poi incontra la confusione del soggetto genera disastri da questo punto di vista bisogna un pochettino chiarirsi le idee lo puoi fare attraverso lo studio la cultura e la costruzione di un modello di approccio di lavoro un po' più pragmatico un po' più basato su diciamo un minimo di 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 progettazione chiamiamola così che non vuol dire scattare solo di testa e poi l'istinto rimane comunque un elemento importante però bisogna domarlo dominarlo e indirizzarlo per cui per rispondere comunque a Mauro vivo le sessioni danzando passando da momenti in cui do più libertà al soggetto perché quello che mi interessa è il risultato non è dover necessariamente dire la mia la mia la dico quando scatto se però è necessario un intervento da parte mia per diciamo dare una direzione o aiutare il soggetto a restituire qualcosa di più importante allora è quel momento in cui entro in gioco io e varia a seconda del soggetto anche lì non c'è la parolina magica l'esperienza la fa da padrone in questa ottica ecco Sergio tra l'altro osserva o chiede se per un timido a questo punto la fotografia di strada possa essere un ottimo esercizio a prescindere dal genere della professione per combattere appunto questa timidezza sì pensa che faccio dei workshop di fotografia di strada per le aziende che mi che chiedono questi poveri manager di venire in strada con me proprio per costruire quel tipo di esperienza perché poi ti resta tutti abbiamo mi piace dire le mie workshop ma è così abbiamo tutti due tipi di amici quello che che entra in un bar due minuti dopo è amico di tutti e quello che va nello stesso bar da dieci anni e non sa il nome del cassiero o della cassiera la fotografia di strada se la vuoi fare veramente e non sei fortunato ad avere quel tipo di carattere per cui sei già compatibile di tuo per imprinting e quindi è solo un problema di tecnica non di attitudine se però senti che desideri farla ma ti senti distante beh la buona notizia è che si impara ho visto persone super timide diventare dei tirannosauri in strada è tutta però una questione di metodo di costruzione di un percorso di esercizio e un po' di capacità di come ho detto riprocessare poi tutta la parte di errori quanti ne ho visti che dopo un paio d'ore in strada dicono non fa per me però poi quando vanno a vederle nelle mostre ne rimangono affascinati e vorrebbero poterla fare il problema è la capacità di strutturarsi e di un minimo resistere a quella a quella paura di dire non fa per me perché hai visto che hai fallito la prima volta insomma è come dire vuole fare il ballerino di classica vado su una sbarra alzo la gamba alzo 10 cm e finisce lì non fa per me no e quante ore ha passato quel ballerino la sbarra prima di poter fare quello che ha fatto è un problema di dedizione di capacità di sacrificio e di voglia di cambiare si cambia ripeto io sono un timido e ho formato tantissimi fotografi di strada che sono partiti come super timidi e oggi vanno in strada e vivono questa capacità di esprimersi oltretutto super accessibile non devi avere uno studio non devi costruire chissà quale tipo di percorso è una cosa molto personale ne va in strada scatti e racconti le tue storie attraverso gli altri ed è una cosa bellissima una delle cose più belle della street benissimo benissimo eolo qua ti salutano ti ringraziano tutti dicono che sei fonte di ispirazioni continue che sono sempre ascoltarti è sempre un piacere ma questo lo sapevamo l'avevo già detto l'avevo pronunciato assolutamente e soprattutto avevo pronunciato la disponibilità infatti siamo andati ben oltre l'orario cattuito ti sei veramente concesso abbondentemente a tutti i nostri amici che dire grazie ancora veramente per per la bellissima serata e per per gli spunti che hai dato a tutti che hai regalato a tutti quanti grazie mille grazie a tutti noi ci vediamo domenica un sabato un sabato e buona serata grazie di aver passato questo tempo d'accordo grazie ancora a tutti quanti per aver partecipato alla nostra al nostro incontro prometto che ne arriveranno altri per cui continuate a seguirci sui nostri canali e speriamo poi davvero al più presto possibile di vederci di persona in in occasioni anche più più affollate a presto ancora ciao grazie mille Eolo grazie Eolo